Oggi faccio una ricetta straordinaria, ma dire straordinaria secondo me è quasi limitativo. Vado a fare la genovese, che non è di Genova perché è una ricetta proprio napoletana ma napoletana napoletana e vado a fare la ricetta di una mia amica Clara, Clara Varriale che non è James Bond anche se ha lo sguardo penetrante. Perché la sua ricetta? Perché io la genovese l'ho mangiata tante volte, ma la sua secondo me è una delle più buone che ho mangiato. Poi una volta mi ha portato un barattolone così dicendomi questo ci mangerete più volte mettetelo da parte, ma appena se n'è andata, la stessa non ci siamo finiti, era veramente straordinaria. Poi l'ho mangiata buonissima, a Napoli mi ha mangiato un sacco di volte, l'ho mangiato in una trattoria straordinaria che avvicina la stazione da Donato, mamma mia come si mangia, una cosa incredibile. È un piatto di quelli come tanti piatti napoletani, cioè i napoletani vanno tante volte da un estremo all'altro, o fanno le cose super rapide o queste cose qui che ci vogliono tante ore. Questa è una ricetta che ci vuole veramente un sacco di tempo, di lavoro poco ma ci vuole il tempo, per farla bene ci vuole un po' di tempo. Introduzione lunghissima ma secondo me anche meritata perché vale la ricetta, ma cominciamo a farlo. Ovviamente la prima cosa che serve sono le cipolle. Partiamo dalle cipolle. Cipolle che ho già sbucciato, le divido a metà o in quattro come volete, se sono un pochino più grosse le potete dividere in quattro, non vi preoccupate. Nel frattempo ho messo dell'acqua a bollire, non salata, senza l'aggiunta di nessun aroma di niente. Andiamo a lessarle. Devono diventare tenere, diciamo indicativamente secondo me su 10-15 minuti sono già poste, poi considerate che comunque avranno una cottura talmente lunga che diventeranno morbide anche dopo. Nel frattempo vado a preparare anche la base, la carota, diciamo più o meno, ecco questa parte di carota qui va bene e questa, questa parte che è rimasta ovviamente me la mangerò io. Nel frattempo mangio. Le cipolle sono pronte, sono già quasi raffreddate, le ho fatte raffreddare in acqua e ora si vanno a frullare. Si possono frullare tranquillamente anche con un mini pimer, io lo metto dentro il frullatore ma semplicemente per praticità. Casseruola. Casseruola se l'avete di terracotta benissimo, di chisa, comunque una pentola che vi servirà per una cottura molto lenta. Questa è perfetta. Cominciamo. Un pochino d'olio. Si accende la fiamma e si mettono le carotine. Carotine e sedano. Poi prendo la cipolla e la verso dentro. Sta cominciando a prendere calore, ci vorrà un pochino, il tempo che mi servirà anche a me per preparare la carne. Muscolo e gambuccio di prosciutto. Cominciamo dal muscolo e tagliamolo a pezzettotti. Naturalmente la cipolla comincerà a scoppiettare. Mettete un pezzi grossolani, piuttosto grossetti considerando la cottura. Invece il prosciutto lo andrò a tagliare più fino. Vado ad aggiungere il prosciutto e la carne. Ora mettete fuoco al minimo, fuoco veramente basso. Coprite e lasciamo cuocere per circa quattro ore. Ogni tanto andate lì e giratelo. Mi raccomando, fuoco al minimo. Ecco qua. Nel frattempo, nel frattempo io comunque ho aggiunto un pochino di acqua, perché lo vedete insomma se rischia di attaccarsi. Ora si vanno a prendere pezzi di carne, si cerca di togliere un po'. Vedete la carne è già praticamente si sta, è già perfettamente cotta. I pezzi di prosciutto se rimangono dentro, pace. Fiamma, le alzate, quindi non più al minimo. E ora, facendo sempre attenzione, un pochino di vino per volta. Vino bianco eh. Ovviamente alzando la temperatura il gas si attaccherà più velocemente. Quindi questa operazione fatela, girando, controllando sempre. E poi via via, diciamo nell'arco di un'oretta, all'incirca, mettete tutto il vino bianco. Lo fate evaporare, lo aggiungete, lo fate evaporare. Fiamma, diciamo media, non altissima, perché so se brucia tutto. Ci siamo eh. Ormai sono passate ore a dir la verità. È passato un giorno perché è da ieri che l'ho lasciato qui perché ho detto vabbè, lo finiamo domani. Allora, il sugo praticamente è pronto, ma vi faccio vedere come finisce. L'acqua sta bollendo, ci metto il sale e metto la pasta. Allora, per la pasta scegliete voi, ovviamente il formato, non c'è nessuna preclusione. Clara, per esempio, ho visto, ha messo delle penne, però a me le mezze maniche mi piacciono di più, quindi metto le mezze maniche. Rimetto il sugo sul fuoco. Guardate com'è, come diventa il sugo. È denso, cremoso, è una cosa incredibile. Allora, arrivati a questo punto dovete anche correggere il sale. Io vi dico la verità, fatelo veramente a questo punto perché dipende anche da quanto è forte e sapido il prosciutto che avete messo dentro. Qui non ce n'è veramente bisogno. Ho usato un prosciutto toscano, quindi il prosciutto toscano è più sapido degli altri prosciutti. Magari avete utilizzato un prosciutto di Parma. Vabbè, comunque, basta assaggiare. Rimetto la carne dentro. Faccio riprendere calore. Aggiungo il burro. Lo sapete qual è l'unica cosa che veramente mi dispiace? È di aver fatto solamente questo poco sugo perché questo, secondo me, se ne avessi fatto quattro volte tanto, forse andava bene. No, queste sono dosi perfette per quattro persone. Quattro persone sono esattamente quelle. Però siccome io sono un esagerato per natura, per quattro persone in realtà cucino per quaranta. A questo punto si aggiunge un po' di acqua di cottura della pasta. Clara consiglia di mettere un paio di bicchieri, quindi deve proprio ammorbidirsi il sugo. Poche volte nella mia vita mi è successo di fare le ricette esattamente come erano state scritte perché poi ci metto sempre un po' del mio, cambio. Siccome questa genovese qui l'avevo assaggiata e l'avevo trovata straordinaria, ho voluto rifarla esattamente nello stesso modo. Questo è godimento a livelli stratosferici. Va bene, leviamo la pasta. Qualche minuto in anticipo lo faccio finire lì dentro. Ovviamente ho messo meno pasta di quella che sarebbe servita. Questa è giusta per quattro etti di pasta, questo sugo. Non di più. Clara dice 500 grammi, ma secondo me in questo ha peccato un po' di tirchieria. Io sono molto più esagerato. Se il sugo si è asciugato un pochino, io l'ho fatto asciugare, ma la colpa è mia. Aggiungete un altro pochino d'acqua. Ma poca, proprio poca, poca, poca. Giusto per ammorbidire un pochino. Si impiatta, si impiatta. La cosa più bella, no, la cosa più bella è assaggiare. Non è impiattare, mamma mia. No, però la pasta la potevo mettere anche un pochino di più, eh. Non 500 grammi, come diceva Clara, però la potevo mettere anche un pochino di più. E poi Clara ci mette sopra il parmigiano e secondo me è una scelta intelligente. Un po' di parmigiano. Zaccate! Ma io il parmigiano non lo voglio mettere per motivi che non mi va, perché mi va di assaggiare direttamente. No, lo vedete? Vedete che cos'è? Dentro questa mezza manica c'è il mondo dentro. Il mondo dentro. In questa un po' meno. Oh, non l'acquolina in bocca, di più. L'ho fatto buono quanto Clara. La ricetta era sua, quindi è una ricetta scritta perfettamente, fantasticamente ma buona. Clara, alla prossima! Ciao! 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 Ciao!